La tricologia è una branca della dermatologia che pone la sua attenzione sull'anatomia, la fisiologia e le patologie dei capelli e dei peli. È la scienza del cuoio capelluto sia in stato di salute sia in stato di malattia. Per avere la competenza in tricologia esistono master nel settore che possono essere conseguiti da chi si laurea in medicina, farmacia, biologia. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo due secondi del tuo tempo per chiederti di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. Ci si rivolge al tricologo, a seguito di prolungati problemi al cuoio capelluto che necessitino una diagnosi più approfondita. Può essere utile per monitorare lo stato di salute del proprio cuoio capelluto, ma anche per sapere qual è la miglior routine di pulizia e bellezza per se stessi. Tra le patologie valutate in sede di visita tricologica ci sono Dermatite seborroica Alopecia areata Psoriasi Allergie o infezioni Calvizie I sintomi che riguardano lo stato di salute del cuoio capelluto da non sottovalutare possono essere Eccessiva caduta Forfora Alopecia Capelli fragili Seborrea Arrossamenti e prurito Follicolite Stai cercando il tricologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it Oppure su www.socialdoctor.it Oppure su www.studiopronto24.it Questa è un'idea di Uma Innovation Buona giornata!